La fastidiosa pioggia di queste ultime ore ha costretto la lucchese a rivedere il programma del giovedì che inizialmente prevedeva l'amichevole al Porta Elisa con la cuoio Pelli, con pagine di eccellenza, che veleggia senza infame e senza lode a metà classifica. Tutto annullato, con la truppa rossonera che si è trasferita armi e bagaglia all'acquedotto, il prato dello stadio va preservato anche perché domenico ore 14.30 arriva al colo. Quello contro i lariani di Mister Gallo, anche alla luce di un febbraio più nero che rosso nero, è così diventato una sorta di crocevia stagionale. Dopo l'atteso e puntualmente arrivato secondo punto di penalizzazione, la classifica suggerisce che sono otto i punti di vantaggio sulla zona play-out. Tanti, pochi, galderisi, la vede così. Credo solo che sia un momento dove dobbiamo mettere a punto delle cose, guardarsi poco intorno, cercare di essere positivi e commettere meno errori per cercare di gestire meglio alcune gare che purtroppo adesso saranno sempre difficili. E parlo non solo da parte nostra, ma un po' in generale. Adesso vai a giocare con le squadre sotto, sono tutte rinforzate, sono tutte più predisposte a fare sacrifici e di conseguenza diventa tutto più complicato. Questo non lo sappiamo e non dobbiamo dimenticare. Capitolo formazione che va delineandosi. La squalifica di Dermacu comporterà l'inserimento di Maini al centro della difesa, sorretto dai soliti esperti e specie Capuano. Quattro gli elementi a comporre la linea mediana, con Tavanti, Bruccini, Mingazzini e Nolè, visti gli acciacchi di Cecchini. Ma le novità più ghiotte si profilano nel reparto avanzato, dove accanto al solito Fanucchi, che tornerà trequartista, dovrebbe agire l'estroso Dauria, turno di riposo per De Feo, alle spalle di Raffini, finalmente in rampa di lancio.